salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video oggi tratteremo un argomento molto delicato perché stiamo vivendo tutti soprattutto per l'italia da ieri e oggi è successo insomma una cosa abbastanza preoccupante in pratica tutta la penisola diventata zona rossa allora va beh l'argomento coronavirus penso che in rete sono passati molti video discutevano dell'argomento appunto la questione è proprio questa che la situazione va peggiorando infatti il virus è scoppiato in cina tutto quello che è successo poi al nord questo è stato di persone che danno l'ho descesa qua al sud ma a prescindere se fosse persone del nord o adesso come se non arriva anche qua al sud il virus si sta diffondendo come ho detto già prima tutta l'italia è entrata in quarantena adesso mi domanda e dico cosa ancora dovrà succedere cosa ci dobbiamo aspettare anche perché tra l'altro mi sembra di capire che non tutti hanno compreso la gravità della situazione allora a parte i giovani per strada che pensano che possono ancora fare la bella vita e quant'altro quando invece come stanno dicendo in continuazione tipo state a casa state a casa e cosa che non stanno facendo o meglio non tutti stanno facendo i primi a essere a rischio sono le persone anziane scendi per chi si è obbligato magari a scendere chi trovi per strada le persone anziane siamo arrivati al punto dove praticamente quelli che devono avere soccorso alle persone infette devono fare una scelta se soccorrere una persona che ce la può fare una persona a pensare che magari non ha possibilità in pratica sono costretti a lasciarla morire quindi questo è quello che dovrebbero capire poi circolano molte notizie in rete ovviamente poi sarà soggetto singolo riuscire a capire quali sono notizie vere quelle no poi stanno succedendo tante cose che stranamente stanno succedendo adesso la situazione delle carceri carceri che sono evasi che solitamente che non mi ricordo mai che successa una cosa del genere dove vadano tanti carceri tutti insieme si fosse l'evasione di uno di due ma non così tanto insieme in questo momento magari c'è chi dice che si tratta di una semplice influenza ma non mi ricordo mai che quando gli altri anni si è parlato di influenza si sono chiuse le scuole i negozi e si è andati tutti in quarantena quindi evidentemente veramente la cosa è più grave di come alcuni possono pensare che altro posso aggiungere che comunque la situazione è difficile per l'italia forse perché non siamo preparati abituati a queste cose la situazione è destinata a precipitare i cinesi come abbiamo visto subito si sono vattati fisi in quarantena infatti per loro la situazione per fortuna sta migliorando ma noi che prendiamo sempre le cose così alla buona le cose vanno peggiorando ieri per esempio quando conte che tutta l'italia entrava in zona russa in pratica tanti hanno assaltato i market per accapararsi il cibo quando è stato detto così chiaro non rinchiudetevi in zone affollate vieni di persone state a casa invece subito tutti quanti a fare spese a caparsi il cibo rinchiudati tutti questi market vieni di personetti accalcati non a tutti è chiara la gravità della cosa e il comportamento che devono avere allora che altro possiamo aggiungere magari alcune domande che mi sono posto sin dall'inizio per esempio da dove nasce il virus all'inizio si è detto che praticamente sarebbe nato dai serpenti dai pesci tipo cose che mangiano i cinesi ma si è sempre saputo che i cinesi mangiano insetti serpenti pipistrelli topi cani di tutto quindi voglio dire è da escludere questa possibilità è più probabile che sia nato volontariamente preparato volontariamente in laboratorio chissà da chi e perché e poi è stato fatto uscire ha infettato così tante persone chi c'è alle spalle neanche questo si sa per certo alcuni punti dicono cinesi francesi americani chissà farsi americani boh circolano ancora altre notizie per quanto riguarda probabilmente un numero di militari che dovrebbero arrivare qua dall'america chissà per fare cosa forse per servizi d'ordine poi la cosa qui in italia forse e anche che non avendo capito tutti la gravità delle cose dei fatti non si è compreso che se gli ospedali non riescono a contenere il numero di persone che devono soccorrere tanti sanno mandati a casa a morire praticamente quindi per questo forse la televisione e non è una scoperta e continuano a dire state a casa state a casa e invece come dicevo prima tanti giovani se la prendono leggera ma sì qua la andiamo così al bar per strada come andranno le cose staremo a vedere probabilmente la situazione è destinata di genere a precipitare perché almeno per adesso le cose non stanno bene potremmo chiamare questo blog diario di bordo nella situazione coronavirus quindi a seguire farò altri blog così per aggiornare tutti quanti anche il chino sanitario della situazione che viviamo qui e quindi niente al prossimo blog ciao